Le minoranze linguistiche vogliono oggi dare un segno concreto e tangibile di vicinanza e di sostegno ai due Presidenti, Lorenzo Dell'Ai e Luis Dunwalder, per l'azione che in queste settimane e in questi mesi stanno portando avanti a difesa della nostra autonomia. Con la conferenza stampa, le minoranze linguistiche ha voluto dare sostegno all'azione dei governadores Lorenzo Dell'Ai e Luis Dunwalder, che insieme alle regioni autonome del Friul e della Val d'Aosta ha fatto recorso di contro le ultime leggi del Governo nazionale. La questione in sé è le norme che il Governo di Tecnics approa con la Spending Review. Se l'obiettivo delle norme nazionali è che il desmendere la spesa pubblica, della pratica che queste leggi esiste a toccare ambici che fino ad adesso è stato gestito dall'autonomia. L'argomento porta adanta del ricorso dei due governatori è che, anche ben che sia giusto che le regioni e le province autonome dare il suo contributo per mettere a posto i conci tagliegni e il Governo nazionale non può dire a chi è autonome o la tar e o la troare le risorse. Questa è una competenza che l'Estatut di Autonomia lascia alle province. L'argomento porta adanta in ceda le mendranze, rappresentate dall'assessore regionale Luigi Chiocchetti, l'assessore provinciale Florian Musnar, la procuradora Cristina Donei, Elsa Zardini, Presidenta dell'Unione Generale, Diego Moltrer per la mendranza Mocchena e Luca Nicolussi Paolaz per i Zimpi. Ma è fondamentale gestire a piedi perché loro dal buono ha un gran pezzo in questo momento, una gran responsabilità che le che la devono compromettere nel percorso che è stato fatto fino ad adesso. L'autonomia non l'ha regalata a nessuno, non l'ha data concessione a nessuno, la è nostra, noi siamo quelle che le esigenze dei nostri territori e allora noi ci sono due i nostri presidenti perché quello che ha fatto fino ad adesso va nel senso di valorizzare quello che noi hanno fatto, quello che ci ha venuto in onda noi ha fatto per questa terra, per queste nostre trentine e strutture. Il rischio è che insieme al smendamento delle autonomie passa a smendare in proporzione e c'è il stravardamento delle mendranze linguistiche. Sì, sono del buon cruziata perché se tu vassi a indebolire l'autonomia della nostra regione, bisogna indebolire automaticamente il sostegno alle mendranze e che sia l'ultima cosa che volessi. Tutti la dici è cruziata e anche chi da Sora Mont, perché questo governo si permette aziosi senza sapere ciò che succede in caccia, che è una mendranza, che ha il diritto di vive, di sora vive, che è una ricchezza in ogni caso per il Stato italiano ma anche per l'Europa, e sono tutte cruziate di questa questione.